Gli stakeholder finanziari sono un capitolo abbastanza particolare della comunicazione digitale, nel senso che sono stati sicuramente tra i primi che hanno capito e sfruttato le potenzialità della rete. Quando le aziende facevano i primi siti internet, la parte della comunicazione finanziaria è stata quella che ha spinto, perché c'era il bisogno di pubblicare i bilanci, di pubblicare le presentazioni, quindi si è partiti molto da quello e poi le prime classifiche, i primi ranking puntavano proprio molto sulla comunicazione finanziaria, poi hanno capito che gli investitori non guardavano solo ai dati economici e finanziari, ma che erano interessati anche a tanti altri aspetti dell'azienda e questo ha fatto sì che pian piano i siti crescessero, informazioni sulla sostenibilità, sulla governance e quindi è un mondo che è cresciuto sempre di più. Poi hanno subito un po' i cambiamenti tecnologici, gli investitori sono un capitolo molto chiuso per certi aspetti, perché sono una comunità abbastanza piccola, sulla rete per un sito corporate gli investitori non sono mai quelli che fanno i grandi numeri, il capitolo investor relation spesso è uno dei meno visti a livello di numeri, però è sempre uno dei più importanti, per esempio cose come lo streaming sono stati dei precursori, perché la loro internazionalità e la loro distribuzione appunto nel mondo ha fatto sì che le aziende attivassero i primi streaming per trasmettere informazioni. Poi c'è stato tutto il tema dei bilanci online, quando non bastava più il PDF hanno sviluppato tutti i bilanci in HTML e poi in Java e quindi tutte le tecnologie che sono seguite. Poi sono arrivati i canali social, quindi Twitter, gli account dedicati e quindi insomma una comunità molto interessante perché si occupa di comunicazione.